POSSO DIRE IN TUTTO ONESTÀ DI NON AVER MAI AMMAZZATO QUALCUNO CHE NON LO MERITASSE LA MIA FILOSOFIA ERA SEMPRE STATA QUESTA NON FARE MAI NIENTE PER NIENTE SAVA SANDY Dai ragazzi che si è andati per la messa E lei ti la margona Imprenditore Ce l'avevo nel sangue lo spirito imprenditoriale E i bastonati A sposa Osamu E' raggiunto il momento di allargare la rete Non è che ho sentito che stanno organizzando qualcosa di grosso L'eroina è il futuro, santo Riempiamo le strade, le piazze e i salotti di roba Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it E bentornati sul nostro sito Allora il 19 aprile uscirà su Netflix il film L'Ospietato Verrà anticipato al cinema per tre giorni L'8, 9 e il 10 Verrà proiettato nei cinema italiani come proiezione speciale A presentarlo qui i nostri ospiti graditissimi oggi Regista Renato De Maria Ciao a tutti E un grande ritorno Sara Serraiocco Ciao Sara Saluta ultimamente Insomma tu ti stai affezionando a quello dello sport Lo so che tu puoi parlare tanto di calcio Quindi vieni sempre, vieni sempre Mi fa molto piacere questa cosa Però prima dobbiamo parlare del film Allora parliamo di questo film L'Ospietato Allora di che cosa parla? Prima comincia tu raccontando un po' la storia E poi dopo andiamo con le altre domande L'Ospietato racconta, è tratto da una storia vera Però che noi abbiamo rielaborato con i miei sceneggiatori Per fare un omaggio al poliziotesco italiano degli anni 70-80 Ed è l'ascesa e discesa di un gangster raccontata in una chiave comedy È un classico film di genere dove c'è violenza, storia d'amore, tradimenti, passioni E poi c'è il racconto sociale della Milano degli anni 80 In cui questo gangster si afferma con l'ambizione di essere un imprenditore E questo dà la chiave comedy diciamo così al film Milano degli anni 80 che so che tu hai voluto particolarmente raccontare Perché insomma un po' la Milano che tu hai È stata la mia città di formazione Quando ho lasciato Bologna ragazzino per i miei primi esordi da regista Sono stato proprio risucchiato da Milano Dove c'era appunto la moda, la pubblicità Era una città in grande boom economico Era un posto dove tutti volevano essere C'era Armani, Versace, Fiorucci Tutte le modelle che stavano lì a Milano La pubblicità anche aveva un grande boom E l'Italia stessa usciva dagli anni 70 E quindi c'era questo appunto desiderio di bere Senti Sara invece Tu nel film interpreti il ruolo della moglie di Santo Russo È una moglie, che tipo di moglie è? Perché è una moglie che cambia durante il film Cambia un pochettino Prima una moglie devota, molto sempre vicina al marito Poi dopo insomma raccontami cosa mi puoi dire Sì, interpreto Mariangela che è la moglie di Santo Russo E Renato mi ha dato la possibilità di interpretare questo bellissimo personaggio Che attraversa varie fasi all'interno della storia E inizialmente vediamo Mariangela una ragazzina piccolina Con una frangetta Che è una ragazzina calabrese Nel suo primo incontro con Santo La vediamo timida Poco sicura di se stessa Per poi diventare moglie, madre Ed infine una donna sicura di se stessa Che prende in mano le redini della famiglia E del rapporto con il proprio marito Quindi è stata un'esperienza d'attrice Che mi ha formata E che poi è bellissimo lavorare con Renato Perché è una persona molto attenta Ai dettagli, in primis i costumi L'ha messa in scena Ma con cui ho avuto un dialogo molto aperto sul personaggio E sono entrata in forte empatia Quindi mi sento fortunata Senti, in effetti l'ambientazione L'attenzione nei particolari Cioè tu ti sei focalizzato molto Sull'abbigliamento, sui vestiti Sembra veramente di essere catapultati in questo mondo Quanto ci hai lavorato? Beh, al film ho lavorato per più di tre anni Sia per la costruzione della storia E poi dopo ho lavorato quasi un anno Proprio nello studiare bene i dettagli Perché quelli sono importanti Per ricostruire non solo l'epoca Ma anche lo spirito del tempo Perché il film di Gangster Movie È un bellissimo racconto già di per sé Se però riesci a dare anche uno spaccato sociale Di quello che racconta l'Italia dell'epoca È importante È importante non sbagliare Quindi le automobili Dovano essere quelle giuste Del modello giusto Sia quelle che passano per la strada Sia quelle di Santo Russo Che amava il lusso Chiaramente Quindi Lamborghini, Ferrari E via dicendo Più un'attenzione alla moda E perché è la novità dell'epoca Allora, no? L'immersione di questi grandi stilisti italiani È il marchio Made in Italy, no? E dall'altro lato perché il Gangster di per sé Adora l'eleganza Cioè lo ritiene un simbolo Del proprio potere, no? E quindi solo Versace, Armani, scarpe, orologi Macchine di lusso, eccetera, eccetera E quindi su quello non dovevamo sbagliare E su quello dovevamo dare l'imprinto Del stile visivo, diciamo così, del film Pentiti, Santo Pentiti Pentiti Ora capisci perché deve progare per lui E prometta che lo farà Dì, 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 dì